Mi chiamo Patrizia Ghizzoni, come lavoro principale, lavoro in un negozio di arredobagno e ristrutturazioni, è un lavoro che mi piace molto. Ho saputo di vita straordinaria online tramite il gruppo Facebook delle Divine Connection, tramite Patrizia, e è una cosa che mi ha attirato immediatamente, tenendo conto che avevo già fatto dei live e ho fatto l'intensivo in Umbria. Ho deciso di partecipare a questo evento per curiosità e quando ero andata al live di Rimini mi aveva dato tanto e ho detto proviamo a farlo anche online e la cosa mi ha soddisfatto in una maniera incredibile. Mi è piaciuto tantissimo perché sentivo tutto il gruppo vicino, sentivo Patrizia vicina, cioè che era proprio presente a parte gli abbracci e il condividere con le persone. Qui sono riuscita a mettermi in gioco molto di più, a fare gli esercizi con concentrazione e a esserci. E poi non è stato stancante per niente, è stato meraviglioso. Mi sono portata a casa che ho deciso, l'avevo deciso anche prima, però questa volta lo sento nella pancia, lo sento nel cuore, di scoprire ancora di più quello che sono, cioè di vivere veramente una vita straordinaria impegnandomi. E quello che mi sono resa conto è che facendo un percorso così e avendo comunque un supporto, anche quando Patrizia aveva iniziato a fare le meditazioni giornaliere, lì è stato tutto un percorso di crescita e un impegno costante. Ecco, mi ha insegnato un impegno costante, che io prima ero un po' incostante. Non c'è stata una cosa specifica che mi ha colpito di più, perché ogni lezione dicevo ah, questa è bellissima e quella successiva è bellissima, non c'è una cosa è stata meglio, una cosa è stata peggio, è stato tutto un percorso molto bello e tra l'altro anche gli ospiti mi hanno veramente ricaricato ulteriormente. tutto mi è piaciuto, non c'è niente che non mi sia piaciuto, anzi la cosa che forse l'ho sentita fantastica è le domande e le risposte che si facevano praticamente la sera e Patrizia è stata disponibile senza guardare l'orario, per cui ha aiutato veramente tutti. Un'esperienza così sicuramente la consiglierei, io la consiglierei a tutti, perché è come che Patrizia ti prendesse per mano e ti accompagnasse in un percorso. È un'esperienza molto bella dove è tutto molto chiaro, dove è tutto molto preciso, non ti lascia con le domande sospese, anzi riesce arrivare a farti lavorare veramente nel profondo e poi dopo c'è il gruppo che eventualmente se hai qualche dubbio puoi comunque chiederlo. Se dovessi sintetizzare tutto in una parola, vitalità, mi ha dato veramente voglia di vivere, ecco, di capirmi di più e di raggiungere questo obiettivo di vivere meglio la mia vita. Quando è finito l'evento non ho pensato la prima cosa che faccio qual è, l'ho messa in pratica. Praticamente io ho iniziato a fare le meditazioni che Patrizia faceva tutte le mattine e ho continuato, ho messo in pratica quello che ci aveva insegnato e poi la cosa dove appunto sono contentissima che c'è anche la replica del corso e di conseguenza quelle cose che nel momento non avevo memorizzato e adesso me le ritrovo scritte e di conseguenza posso andare avanti oltre. Ringrazio Patrizia, ringrazio tutto lo staff che siete stati veramente fantastici, sono molto contenta e non vedo l'ora di iniziare l'intensivo. Ringrazio Patrizia, ringrazio tutto lo staff che faccio